Elena, sul tuo nome perché hai appena risposto al telefono? Ma vedi un po' che ci fai chiusa dentro una bancatona? Ora vengo in questo posto tremendo, Elena, su dai camion in assegno che ti porto a Parigi a baciarci in quei viagli assolati in riva il Camigi, tra tutti quei re Luigi. Ma poi basta i discorsi dei pendolari, mi metto in tristezza, mi sbagliare agli stessi prima o in la stessa certezza di avere ancora piccato il fuoco ai miei giorni, giorni. Sono sicuro che in fondo tenete giardini segreti, ben nascosti come faccio io con quei dolori privati che ancora mi ostino a non chiamare per nome. la collina esplode di luce, io non sono capace di essere felice da un po', da un po'. Grazie! Ciao a tutti! Ciao a tutti!